Io mi ricordo l'Aquila, è questo che vedete in questo momento inquadrato e possiamo anche ascoltare un pezzo del brano. Il video è stato estratto anche da un cortometraggio. L'Aquila è un po' la metafora di un territorio ferito dalle calamità naturali. La nostra solidarietà naturalmente in questo momento va anche alle popolazioni catanesi che hanno ferite anche la notte scorsa da un terremoto, l'epicentro Trecastagni. L'Aquila è metafora di tutti questi luoghi che sono colpiti duramente dalla natura. Sì, che sono colpiti duramente dalla natura ma molto spesso sono colpiti altrettanto duramente da fatti sociali, cioè per esempio dalla mancanza di lavoro. Ci sono migliaia di paesi in Italia che lentamente sono stati abbandonati, più o meno lentamente sono stati abbandonati. In realtà il mio non è nazionalismo ma è una semplice rivendicazione paesaggistica, artistica, storica perché con l'abbandono di questi posti noi non perdiamo soltanto le pietre, non perdiamo soltanto i muri ma perdiamo tutto quello che viveva dentro quei muri e cioè perdiamo le tradizioni, perdiamo in una parola la nostra memoria. Tradizioni, sentimenti e memoria, ecco c'è tutto questo anche nel libro che è uscito insieme a questo album, si chiama La mappa del buio. Del buio, infatti c'è un discorso che continua. Il disco Io mi ricordo l'Aquila è più specificamente indirizzato verso una città che si sta ricostruendo e che avrà bisogno della cosa più importante cioè il ritorno della vita in quelle strade e in quei palazzi che si stanno ricostruendo. Mentre invece nel libro affronto l'argomento in modo un pochino più ampio e attraverso così la scusa dello snodo di una storia affronto di nuovo il problema appunto di tutte quelle zone d'Italia che lentamente vengono abbandonate e ripeto, abbandoniamo una parte importante di noi stessi abbandonando quei paesi. Nel vinile in lato B c'è il secondo brano Quanto è bella la vita, le tragedie anche causate dalla natura si prova a rispondere appunto con la bellezza vivendo quei territori. Noi nel Lazio insomma siamo stati capiti duramente e adesso si prova a ripartire. Certo, ma intanto nel Lazio ci sono dei posti appunto dimenticati che sono bellissimi, li conoscono gli studiosi e i cinematografati interi paesi abbandonati all'interno dei quali trovi Bernini abbandonato nei boschi e quindi quant'è bella la vita perché forse dovremmo tutti quanti noi renderci conto che il nostro è comunque un privilegio il privilegio di essere nati e di vivere nel luogo felice del mondo e quindi già questo dovrebbe bastarci. Libre e disco che sono stati presentati pochi giorni fa a Roma a proposito dei piccoli comuni noi proviamo naturalmente a raccontarli lo abbiamo fatto anche oggi con Gallese, nel Biterbese, nella Tuccia anche lì ci sono veramente delle vere, proprie, autentiche perle. Grazie allora a Mario Castellò per essere stati con noi in bocca al lupo per il futuro.